Siterà a Torino il 15 e 16 giugno il primo congresso internazionale sui servizi di salute mentale e la ricerca. La manifestazione è il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Sanità della Regione Piemonte. Sarà preceduta da una serie di seminari ai quali hanno aderito 32 servizi di salute mentale piemontesi. A organizzare il congresso che è stato oggi presentato e la Segreteria Generale Permanente per fare a salute un'associazione di torreppe.